Bene, ben ritrovati amici della rete, noi siamo nello spazio straordinario di Fipe, parliamo naturalmente, penso di ristorazione credo, no? Parliamo di ristorazione, di futuro della ristorazione, di sostenibilità e lo facciamo da host 42esima edizione in presenza e già questa è una buona notizia visto i problemi che il settore ha avuto nell'ultimo anno e mezzo, non solo il settore, tutti quanti, ma il settore in particolare. Manteniamo la distanza, manteniamo le distanze, facciamo anche un passo indietro. Sei già pronto per partire? Io sono pronto. Sei già pronto per partire? Io sono pronto, pensavo fossimo partiti. No, non siamo partiti. Non ho preso ancora, di nuovo. No, sto scherzando. Allora, tre, a te la parola per questa conduzione di questa mattina, ma non prenderci gusto però, eh? Tre, due, uno. Buongiorno a tutti, primo collegamento da host, la fiera di Milano dell'ospitalità, la fiera internazionale dell'ospitalità da Milano, fiera, siamo allo spazio di Fipe Conf Commercio per parlare oggi di ristorazione, di futuro della ristorazione e in particolare di sostenibilità. Tanto per incominciare facciamo un rapido giro di presentazione dei nostri ospiti, a cominciare dal padrone di casa, che è Roberto Calugi, direttore generale di Fipe, alla mia destra. Alla mia sinistra, Intimerino, SEO di Gurmix. Due parole, Lampo, per dirci che cos'è Gurmix. Gurmix è una piattaforma che è nata per supportare il settore della ristorazione nella propria offerta commerciale, digitalizzandola, mappando la propria community e quindi poter essere sempre più sfidanti nel futuro. Perfetto, futuro e digitalizzazione, ultimo ospite, Luigi Giurgola, chef di Cuochi da Sartoria. Che cos'è Cuochi da Sartoria? Cuochi da Sartoria è una piccola realtà, siamo un catering e facciamo servizi sartoriali, quindi su misura, piccole cose ma fatte in un certo modo. Abbiamo una spiccata ricerca sulle materie prime, su quello che è la sostenibilità e sull'alta qualità dei prodotti. Una cucina mirata, insomma, a seconda delle esigenze di ciascuno. Direttore, a lei invece il compito di farci un quadro, un po' lo conosciamo, ma un quadro di quello che ha passato il settore della ristorazione, anche perché conoscere quello che c'è stato è essenziale per capire come facciamo a ripartire. Quanti giorni ho? Una cosa breve, perché la fiera dura quattro giorni e quindi... Ah, ok, allora, i quattro giorni saremo qua. Innanzitutto mi fa molto piacere parlare di quello che è stato in una giornata come questa. Non è facile perché questa è una giornata dedicata alla ripartenza e quindi cerchiamo comunque, al di là delle parole che dirò adesso, di tenere un approccio il più possibile di riapertura, di rilancio, di ripresa. Che sono sicuramente le parole che dovranno contraddistinguere questa edizione. Noi hanno questa presenza, è una presenza anche fisicamente molto piacevole. Ero all'ingresso di host, ho visto probabilmente con sorpresa una coda molto lunga per entrare. Questo è il miglior viatico, è la migliore dimostrazione che c'è voglia di presenza, c'è voglia di socialità, c'è voglia di confronto e non c'è nessuna piattaforma Zoom, nessuna piattaforma telematica che possa sostituire quello che è l'umano essere, cioè la voglia di socialità. Quello che è stato è stato banalmente un proibizionismo della socialità, perché purtroppo siamo stati in una cosa che possiamo chiamare in due modi, pandemia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, guerra per quanto riguarda gli aspetti economici. Gli effetti economici e sociali di quello che è avvenuto sono assolutamente paragonabili all'effetto di una guerra. Ci sono stati 130.000 morti solamente in questo paese e non sarà un conto che è destinato a chiudersi qui, siamo ancora comunque in una fase, speriamo, post-pandemica, ma comunque con un virus che circola. Solamente nel 2020 abbiamo assistito alla morte di circa 20.000 imprese, ripeto il numero, 20.000 imprese, ma non in Italia, solamente nel campo della ristorazione. Voi sapete che nel campo della ristorazione erano attive circa 280.000 imprese, significa che poco meno del 10% ha chiuso definitivamente. Quest'anno ogni tanto mi fa piacere leggere che agosto e luglio sia andato molto bene, vorrei ricordare che noi fino a oltre la metà di aprile siamo stati chiusi, ad aprile abbiamo aperto solamente all'aperto, quest'anno semiamo comunque la perdita di circa 10.000 ulteriori imprese. Solamente in termini occupazionali, questo è un settore che ha perso 250.000 posti di lavoro, 250.000 famiglie, persone, donne, uomini, lavoratrici, lavoratori che si sono trovati dall'oggi al domani fuori da un mercato con un sistema di cassa integrazione che ha mostrato tutti i suoi limiti e quindi con storie anche personali di imprenditori, imprenditrici, lavoratrici e lavoratori particolarmente complesso. La federazione, la FIPE è stata in prima linea, la prima decisione che noi abbiamo preso è stato quello di non seguire la pancia. Noi abbiamo avuto due fronti aperti, lo dico molto apertamente sperando di non urtare la sensibilità di nessuno. La prima fronte è stato quello di spiegare alla politica, agli interlocutori istituzionali, che cosa è questo settore, che cosa vale. Questo è un settore che produce 90 miliardi di euro di fatturato, è un settore che occupa 1.200.000 persone, purtroppo è un settore rispetto al quale la sensibilità politica è molto scarsa per tanti motivi, ne ricordo probabilmente uno solo, quello che mi piace più ricordare perché viene dato per scontato, non c'è mai stata una politica economica dedicata a questo settore. che è pur sempre il principale driver di sviluppo dell'attrattività turistica di questo paese e del settore agroalimentare. Se c'è una cosa buona che Covid ha portato è che ha fatto capire che senza ristorazione non si vendono i tagli pregiati delle carni, non si vendono le bottiglie più alte, più buone, più prestigiose, perché per quanto possa essere piacevole festeggiare in famiglia lo fai magari una volta all'anno ma certamente non è che tutte le sere apri un sassicaia o ti mangi un filetto magari di un taglio particolarmente pregiato. Ecco, è da qui che dobbiamo ripartire e se mi permetti una battutina, ma proprio una battutina visto anche il taglio che stai dando a questa presentazione, poi c'è stato un altro fronte, che è stato il fronte di tutti coloro che parlavano alla pancia e che scambiano e scambiavano like su Facebook per quote associative. Ecco, io su questo credo che ci sia un lavoro enorme da fare, perché gridare alla pancia è facile per chi grida, ma il problema è chi ascolta e se tu ascolti significa che non hai una grande sensibilità e non hai probabilmente neanche quegli strumenti per capire chi ti sta prendendo in giro per strumentalizzare il settore e chi invece sta cercando in un contesto complicatissimo, in una guerra, di salvare il salvabile. E su questo credo che qualche risposta, soprattutto ultimamente, stia emergendo con chiarezza. Ecco, a questo proposito probabilmente certe manifestazioni hanno contribuito anche a far perdere un po' di attrattività al settore, anche per i lavoratori che poi abbiamo visto che in una fase di iniziale ripartenza sono un po' spariti, avete avuto un po' delle difficoltà a ripartire, a ritrovare personale, in particolare personale professionalizzato, quindi ora la sfida è anche un po' quella di ridare prospettive a questo settore che deve essere in grado di guardare a dopodomani, non più solo a domani. Ma guarda, se mi dai un minuto ancora sul tema del personale, secondo me c'è anche di più, c'è proprio una... la dico in maniera semplice così è completamente comprensibile. Il primo imputato sono stati gli ammortizzatori sociali, il reddito di cittadinanza, ma le persone vengono a lavorare in nero perché vogliono lavorare in nero, perché sennò perdono i benefici. Io non credo che sia esclusivamente o soprattutto questa la causa principale. Il problema principale è che questo è stato un settore aperto e chiuso talmente tante volte che hanno perso la fiducia nel settore dei lavoratori che vi erano impiegati. Solamente in Liguria, tu sai che la Liguria, nella heat parade delle aperture e chiusure regionali che ci sono state, zone gialle, zone rosse, zone bianche, zone blu, esisteva la blu? No, ci mancava quella. La Liguria è quella che è aperta e chiusa più volte, credo abbia chiuso e aperto 25 volte. Ora mi rendo conto che se mio figlio mi venisse a dire guarda io facevo lo chef ma mi hanno offerto ad Amazon piuttosto che a Ikea piuttosto che in una ferramenta un lavoro, io gli direi guarda figlio mio forse vai a lavorare lì che è più sicuro che rimane. Ecco questo è il grosso lavoro di recupero, dobbiamo recuperare fiducia, dobbiamo recuperare sicuramente la capacità delle nostre imprese di sviluppare questo mestiere con maggiore serenità. e secondo me le premesse ci sono tutte. Questo senza dubbio. C'è un lato positivo possiamo dire in tutto questo scenario abbastanza ghiacciante che è quello che la ristorazione ha cominciato a misurarsi con il digitale, con le piattaforme digitali un po' per forza, un po' perché anche qualcuno ha cominciato ad investirci. Piattaforme digitali sono tante, offrono servizi differenti. Oggi vogliamo parlare di una in particolare che ha come caratteristica quella di ribaltare un po' il tradizionale rapporto tra ristoratore e piattaforma digitale perché effettivamente quando un ristoratore si affida a una piattaforma digitale tendenzialmente ci si affida in toto, ci si affida a The Fork, ci si affida a Deliveroo per un servizio però da quelli si è poi dipendenti. C'è qualcosa che si può ribaltare in quest'ottica. Voi Merino avete creato Sustainability che è un tool di Gourmix, la piattaforma di cui lei è CEO. Intanto Sustainability è un nome bellissimo, efficacissimo. Com'è che è venuto fuori? Mi sentite sì. Come dicevi noi siamo partiti con Gourmix. Gourmix è una piattaforma che abbiamo pensato e lanciato durante il periodo del lockdown. è una piattaforma che è rivolta al settore della ristorazione affinché possa in modo assolutamente agevole e semplice digitalizzare quella che è la propria offerta. Cosa significa digitalizzare l'offerta? Significa innanzitutto far sì che i propri piatti, il proprio menu, quindi la costruzione e l'assemblamento dei propri piatti all'interno di un menu potesse essere semplice, semplice da inserire e potesse avere uno storytelling ragionato nell'inserimento. Noi abbiamo creato quindi un back-end di supporto su questo fronte e che permette di poter in un unico tool, per cui in un'unica piattaforma, gestire in modo agevole anche tutti i canali social, perché quello che abbiamo visto chiaramente durante il lockdown è stato, soprattutto sul primo lockdown, una rincorsa all'andare su marketplace terzi. In realtà poi le statistiche che chiaramente non facciamo noi, che fanno le grandi società di consulenza, ci dicono che laddove un utente finale intercetta un piatto, un bicchiere di vino su un canale social di un ristoratore, nell'85% dei casi va sul sito del ristoratore. Quindi il nostro back-end è a completo supporto dell'offerta istituzionale. E da lì abbiamo iniziato ad analizzare il settore, a parlare con i ristoratori. Mentre parlavamo con i ristoratori è successo questo, una cosa che io veramente definisco quasi un meccanismo di innamoramento. Il ristoratore, quando parla dei suoi piatti, parla della propria esperienza come ristoratore. Che significa? Il rapporto che ha con i fornitori non è banale. Gli cercano, gli studiano, hanno un rapporto molto spesso che è estremamente diretto e confidenziale. sono estremamente attenti a quelle che sono le pratiche, chiamiamole di sostenibilità. Per cui tutti gli accorgimenti che possono avere in sala, piuttosto che fuori sala di prossimità, abbiamo visto che erano degli elementi estremamente preziosi. E quindi ci siamo domandati, la percezione di tutto quello che stanno facendo oggi i ristoratori, in termini anche di impatto di sostenibilità, è comunicato in modo efficace? Lato loro, prima domanda. Seconda domanda, laddove è comunicato, per cui l'utente finale come lo percepisce? A questo punto ci siamo seduti al tavolo, perché la mia start-up fa parte di un grande gruppo che si chiama TechEdge, che è anche un altro portfolio start-up, con un'altra start-up che si chiama Sgeo, che fa proprio questo mestiere, cioè fa raccolta dati non finanziari di sostenibilità. ci siamo seduti al tavolo e abbiamo detto creiamo quindi un tool che possa agevolare, poi ve lo posso spiegare anche un po' più in dettaglio, e da lì c'è stato un confronto, come lo chiamiamo, e ci è venuto in mente questo gioco di parole, per cui Sustainability. Peraltro abbiamo visto che nessuno mai era venuto in mente, abbiamo bloccato subito i domini, l'abbiamo registrato perché ci era piaciuto il gioco di parole. Perfetto, dopo ci arriviamo e ce lo spiega un pochino più in dettaglio, però io vorrei andare dallo chef Giurgola, che è docente di tecniche di cottura, per capire che cos'è la sostenibilità per un ristoratore, nel senso, immagino io, non è solo ed esclusivamente fare una cucina a zero sprechi, per esempio. Non è solo quello, ma quello è una buona cosa, insomma. Per noi la sostenibilità è una cosa che parte proprio, che prende una molteplicità di anelli di una catena. Noi avendo un catering, non abbiamo un ristorante, lavoriamo quindi negli eventi, ci spostiamo, trasportiamo il cibo, lo serviamo, e per noi la sostenibilità è proprio partire dal produttore delle nostre materie prime, quindi la ricerca del prodotto che sia sostenibile, ma anche quello che facciamo noi, quelle che sono le nostre pratiche. Noi ci stiamo ragionando, poi siamo partiti da un'idea, ma poi grazie a Inti e alla sua piattaforma ci abbiamo ragionato su, per noi la sostenibilità è con che mezzo arriviamo al luogo, con che mezzo fisico arriviamo al luogo, qual è il carburante, quanti chilometri abbiamo fatto, quello ha un consumo, per esempio ci sono alcune aziende che stanno facendo questo, noi lavoriamo con le aziende, ci sono aziende tipo Agos Ducato che sta facendo un discorso del genere, quando si arriva per registrarsi, per entrare, ti fa fare un piccolo questionario per calcolare la CO2 che si è prodotta per arrivare lì, e questo per noi sta diventando parte del nostro progetto di sostenibilità, poi ovviamente sostenibilità per noi che facciamo catering è stato eliminare totalmente gli usegetta, e quindi passare alla porcellana, all'acciaio, per noi è la ricerca di prodotti alternativi alla plastica, magari nell'acqua, quindi trovare un modo per portare dell'acqua che non sia in plastica, sono una serie di pratiche che noi adottiamo, è una cosa complessissima però nella ristorazione, ogni giorno scopriamo che possiamo fare un qualcosa in più, non si finisce mai, ogni giorno scopriamo che il giorno dopo non eravamo abbastanza efficienti, ogni giorno. Ma trovate un riscontro da parte delle aziende sotto questo punto di vista, cioè io mi metto nei panni di un'azienda, voglio organizzare un catering sostenibile, voglio essere il meno impattante possibile, anche perché magari ho un prodotto da vendere, da commercializzare, che è legato al mondo della sostenibilità, voi siete in grado di fornirgli dei dati a supporto dello storytelling che abbiamo capito è necessario, però non è sufficiente? Allora, due cose, sì, uno è quello che riguarda la mia realtà, la nostra realtà, noi siamo in due, col mio socio, una dei nostri valori aggiunti che siamo presenti agli eventi e raccontiamo e quindi comunichiamo di persona tutte queste cose, però non è sufficiente, c'è tutto un mondo dietro, cioè noi vorremmo che anche chi ci sceglie, prima che ci scelga, ci scelga perché siamo sostenibili, non che lo scopra in fase di evento, per questo ci torna utile la piattaforma di Gurmix, cioè riuscire a mappare esattamente tutte le nostre pratiche e dargli un valore. È una strada, direttore, è una strada interessante per... Tommaso, dipende come intendiamo questi passaggi, sia il processo di digitalizzazione, sia il processo di economia circolare che è poi il modo più elegante per chiamare la sostenibilità economica, lo puoi fare in due modi, lo puoi interpretare da un punto di vista di costo, e sicuramente ha un costo, perché magari dotarsi di un mezzo elettrico per arrivare in una location è nell'immediato un costo, ma lo puoi interpretare, lo devi interpretare, chiedo alla regia se mi manda quelle tre grafici che avevo fatto, avevo predisposto, lo puoi interpretare come investimento. Allora, la domanda che hai fatto adesso ha un senso se c'è un richiamo a quello che da sempre nella vita guida qualsiasi roba, ossia la domanda dei consumatori. Com'è la domanda dei consumatori rispetto a questo aspetto? Allora, da un punto di vista di domanda, non so se gli amici in regia me li mandano, grazie, è del tutto evidente che abbiamo un consumatore che è sempre più attento agli aspetti di sostenibilità. Ormai la maggioranza dei consumatori hanno un'attenzione crescente a questa tematica, e anzi le scelte, e guardate che in Italia siamo molto indietro, in paesi come la Francia, la Germania, per non parlare di alcuni, o l'Inghilterra, il UK, il Gran Bretagna, hanno sviluppato ancora una sensibilità crescente rispetto a queste tematiche, ed è tutto evidente che sono tematiche che noi importeremo anche nel nostro paese in maniera crescente. Il 71% dei ristoranti, secondo i consumatori, dovrebbe avere un modo di operare sostenibile da un punto di vista ambientale e sociale. Lì, Tommaso, c'è un altro aspetto che ha messo particolarmente a cuore e che sarà la differenza. Noi abbiamo fatto due giorni fa una giornata dedicata al mondo del lavoro, in cui la parte di sostenibilità sociale, ovvero sia delle persone che lavorano in questo ambito, è fondamentale. Noi dobbiamo andare verso un settore dove certamente c'è rispetto per l'ambiente e ci mancherebbe altro, ma anche per il tempo di vita dell'imprenditore e per il tempo di vita del lavoratore, altrimenti non se ne esce. Mi fai vedere velocissimamente gli altri due cartelli. Questo è l'attenzione all'ambiente migliore all'immagine dell'impresa, questi sono sempre i consumatori, quindi la domanda che parla, molto, il 58,5%, poco il 35%, solamente il 6% dice nulla. questo fa capire che il storytelling che ci raccontava il nostro amico chef è fondamentale, è importante. E guarda, visto che mi parlavi prima di PNRR, ti dico due cose. Uno, questo è uno dei driver del PNRR, questo PNRR che tutti aspettiamo come Godot, non so se vi ricordate Samuel Beckett e nessuno ha mai capito se arriva e che cos'è. È una roba che arriverà e arriverà concretamente attraverso dei bandi che andranno poi a ricadersi sulle imprese. Uno degli aspetti principali è sicuramente la sostenibilità. Il secondo aspetto lo ricordava prima l'amico di Curmix, l'aspetto sui processi di digitalizzazione. Ti do un altro piccolo dato, non c'entra con la sostenibilità, in questo caso guardiamo all'offerta. Uno degli aspetti dobbiamo trovare sempre delle robe positive, anche nelle disgrazie. Uno degli aspetti positivi del Covid è che noi in tre mesi, primo lockdown, abbiamo fatto un salto di innovazione di cinque anni, non lo dico io, lo dicono svariate ricerche economiche. Io credo che prima del Covid solamente il 2% dei ristoranti aveva un sistema di prenotazione online. Andatevi a vedere oggi quanti sono. Io personalmente non avevo mai usato Zoom prima del Covid. Francamente spererei anche di smettere di usarlo in maniera così intensiva, però sicuramente continuerò a utilizzarlo in alcune occasioni. Mi fai vedere la terza slide, cortesemente? Ecco, quando poi parliamo di digitalizzazione e di sostenibilità e diciamo cosa succederà nei prossimi mesi, non nei prossimi anni, queste sono misure concrete. a sinistra avete alcune conseguenze di veicoli normativi che in buona parte sono stati già approvati, altri sono in fase di approvazione e altri sono stati differiti di un anno come la plastic tax. Ma qui abbiamo un altro anno però è anche vero che le aziende hanno particolarmente sofferto in questi due anni aggiungere in questo momento un'altra tassa non era corretto. però vedete a sinistra alcuni obiettivi che il governo recependo anche alcune direttive europee ha già preso e che riguarderanno il nostro settore a destra sono già degli strumenti non facilmente immediatamente utilizzabili da parte delle imprese di cui spesso e volentieri non si ha una piena contezza. Quindi come dire non solo è un tema come dire passami che fa figo dire siamo sostenibili siamo digitali ma un tema su cui si scommette la sopravvivenza del prossimo futuro delle nostre imprese perché è quello che stanno sempre di più chiedendo ai consumatori. Questo è fuori di dubbio è un tema molto di moda quello della sostenibilità però Merino abbiamo parlato abbastanza a lungo di comunicazione di storytelling che ha il suo peso ed è fuori discussione poi però la sostenibilità è misurazione di dati nel senso che se non vogliamo correre il rischio di fare solo la dico male chiacchiere come diceva il direttore prima abbiamo bisogno di certificare certe filiere certificare certe produzioni certificare certi prodotti anche come vi state muovendo in questo in questo in questo senso sustainability è la risposta anche sotto questo punto di vista ovviamente sì per rispondere alla tua domanda mi piacerebbe ripercorrere brevemente come siamo arrivati alla diciamo così alla mappatura dei parametri che noi stiamo inserendo in piattaforma l'abbiamo fatto inizialmente domandandoci e studiando che cosa avesse il ristoratore a disposizione per potersi dire io opero con delle attenzioni in termini di impatto di sostenibilità eccetera è un mondo estremamente complesso nel senso che da un lato hai le certificazioni che qualcuno non faccio nomi qualcuna di queste certificazioni poi in realtà non è dall'altro lato hai per cui sono dei label che non hanno alcun valore sostanzialmente dall'altro hai delle iniziative assolutamente incomiabili fatte da soggetti che operano nel mondo dell'associazionismo con delle survey da dare ai ristoratori per avere quindi poi un informativo una disclosure sulla sostenibilità hai tutto il mondo delle normative ISO eccetera per cui un mondo estremamente complesso variegato e che in qualche modo noi abbiamo iniziato a presidiare l'abbiamo fatto diciamo facendo un bagno di umiltà perché chiaramente noi la mappatura di tutti quelli che sono i cosiddetti KPI per cui i fattori che vanno ad incidere poi su una risultante finale di tutto ciò che viene messo in atto dal ristoratore lo mappiamo con una tecnologia particolare appunto noi sfruttiamo quella di SGO per cui sotto questo aspetto siamo privilegiati però cosa ci mancava? ci mancava la domanda monte cioè che cosa significa per un ristoratore essere sostenibile e per farlo abbiamo costituito un comitato scientifico che è composito da diverse professionalità fra le quali appunto Luigi che è lo chef insegna tecniche di cottura abbiamo una biologa nutrizionista che è qui presente Federica Mascaretti che è venuta a trovarsi oggi abbiamo un medico oncologo e abbiamo iniziato a fare un percorso su due binari da un lato Luigi ci suggerisce quelle che sono delle ricette e delle ricette nelle quali lui mette un'attenzione particolare sulla parte di impiatto noi andiamo a in prima battuta per costruire quello storytelling poi da mettere nel digitale noi andiamo a sviscerarlo all'interno del comitato scientifico per cui io adesso mi spingo a fare un esempio concreto di modo che nessuno si annoi per cui perdonami Luigi parlo di materia tua sentiti libero poi di intervenire perché posso dire delle cose inesatte un suo piatto iconico è il friscus che io non sapevo neanche cosa fosse è un couscous molto antico di origine meridionale che mi sembra fosse utilizzato addirittura dai fenici nel decimo secolo che ha una storia bella perché si trasportava via mare e per reidratarlo veniva reidratato con l'acqua di mare bene quindi lui ci parla del friscus e noi ci domandiamo benissimo ma quali sono le azioni che tu puoi mettere in atto perché questo piatto poi una volta che viene composto e finito possa essere sostenibile le azioni sono tante perché ad esempio l'accorgimento che lui utilizza è quello di avere dei pomodorini datterini che sono conservati in acqua di mare e l'acqua di mare viene utilizzata per reidratare il friscus e quindi non è uno scarto per me queste ovviamente sono informazioni preziose perché perché sono dei KPI che io sto andando a mappare mi servono per poter avere questo risultante finale di cui parlavamo l'abbinamento tra loro e i cibi e qui viene più ruolo della biologa e del medico l'abbinamento tra loro e i cibi non è banale anche qui ci sono degli abbinamenti tra cibi conservati in un determinato modo cotti in un determinato modo che hanno delle proprietà benefiche piuttosto che che tu puoi esaltare con questi accorgimenti quindi diciamo che noi questo comitato scientifico ci è servito in prima battuta per poter partendo dal piatto arrivare a comprendere quelli che io ho fatto uno fra mille esempi che potevo fare e comprendere quali sono i parametri che noi dobbiamo andare a recepire lato ristoratore dall'altro lato diceva Luigi una cosa estremamente interessante lui fa eventi lui fa catering lui opera con aziende le aziende oggi hanno più che mai necessità a parte che sono molte di queste obbligate in termini normativi a fare il cosiddetto bilancio di sostenibilità però se tu all'azienda riesci a dare anche un'informativa puntuale relativamente al fatto che quel determinato evento che ha avuto quel catering ha un valore in termini di impatto per loro è tanta roba perché se la possono portare evidentemente come effetto di beneficio nel bilancio di sostenibilità e quindi abbiamo visto che in realtà si parte da un doppio binario per arrivare a formulare che cosa quello che noi stiamo facendo è la didiazione di un framework dove i cosiddetti caratteri ISG quindi ambientale sociale governance quindi organizzativi vengano fondamentalmente messi e pesati per il settore noi stiamo lavorando su questo lo stiamo facendo con un partner internazionale che è Buro Veritas che è uno dei più grandi certificatori al mondo ed è un percorso che noi stiamo iniziando adesso e che prevediamo di coinvolgere già avuto interessamento anche da corporate e che vorremmo quindi come dire continuare a ripercorrere anche perché e qui mi ricorrego a quello che diceva il direttore sulle slide che faceva vedere prima e al di là giustamente degli obblighi normativi che portano delle best practice a livello di sostenibilità non dimentichiamoci che la grande sfida ad esempio quella che le Nazioni Unite ha lanciato come obiettivo sul 2030 è quella di portare le migliori pratiche di sostenibilità non soltanto dal punto di vista delle imprese che torno a ripetere lo devono fare magari chi è meno portata perché ha un obbligo normativo ma lato cittadino lato utente finale per cui i cosiddetti SDGs avranno rivoluzione lato utente finale e sono molto contento appunto che c'è stato questo preambolo perché per noi è veramente fondamentale sapere che c'è una direzione anche lato settore della ristorazione importante in questo senso Chef ci hanno parlato di ESG di digitalizzazione di governance praticamente ormai diventate dei manager più che degli chef è così beh sì e nel futuro c'è questo un'iper specializzazione sicuramente c'è maggiore rispetto a prima io posso dire con tutta franchezza la maggior parte come si diceva la maggior parte dei ristoratori non hanno molto a che fare col mondo del digitale anche io che comunque sono molto digitale come persona ho fatto sempre fatica a esportare la mia esperienza la nostra esperienza di azienda sul digitale e riuscire a finire in un mercato nuovo è una sfida quindi in futuro sì confermo ci sarà molta più specializzazione da questo punto di vista si diventa sempre più dei manager direttore come si fa a fare questa transizione tra un mondo fatto di piccole piccolissime aziende locali a conduzione familiare anche e fargli fare questo salto digitale beh come si accompagna la prima cosa e ritorno a un concetto che ho espresso prima ricordarsi una roba molto semplice non esistono ricette facili non esistono ricette facili lo dico finché nella noia chiunque vi promette o promette ricette facili vi sta prendendo in giro è un passaggio importante è un passaggio epocale un po' mi ricorda una trasmissione che io non ho visto l'hanno vista i miei nonni che era non è mai troppo tardi quando gli italiani con la televisione impararono tutti a leggere e scrivere nel secondo dopoguerra noi siamo degli analfabeti digitali l'importante è saperlo siamo degli analfabeti digitali io in primis quando prendiamo consapevolezza di questo e l'abbiamo preso consapevolezza l'hanno preso consapevolezza durante il covid e buona parte della popolazione italiana però poi scopriamo una cosa straordinaria siamo straordinariamente resilienti siamo in media abbiamo delle caratteristiche di adattabilità straordinaria se vediamo nel comparto della ristorazione cosa è avvenuta solamente in due anni è incredibile l'offerta digitale e la capacità di adattamento digitale che c'è bisogna lavorare tantissimo su temi come ITS bisogna probabilmente lavorare sul sistema della formazione con gli istituti alberghieri no sicuramente lavorare con gli istituti alberghieri per avere delle competenze aggiornate magari meno tecniche di ristorazione e più tecniche anche gestionali io sperando anche qui di non offendere nessuno lo dico davvero con enorme rispetto per chi fa questo mestiere dico sempre meno improvvisati più imprenditori scoprire cos'è non solo la competenza digitale ma la competenza gestionale di un'azienda 95% delle imprese italiane ha meno di 10 dipendenti non c'è un ristorante che ne abbia meno di 10 quindi noi stiamo parlando banalmente non di piccole imprese per il sistema imprenditoriale ma di una fascia di imprese già interessante in cui però normalmente il capo l'imprenditore sta in cucina e delega tutta la parte gestionale il rapporto con i collaboratori il rapporto con il sistema fiscale il rapporto sul sistema bancario a soggetti terzi bisogna riapproparsi di queste competenze e l'unico modo mi dispiace non ce n'è un altro è studiare fermarsi capire che queste sono come dire leve che garantiranno la come dire la sopravvivenza e la prosperità dell'azienda non possiamo più io e poi chiudo mi ricorderò sempre un imprenditore che mi chiamò a metà di marzo noi abbiamo chiuso a fine febbraio del 2020 mi disse sono nei casini non ho più una lira e io gli dissi guarda c'è qualche problema perché non puoi essere corto a metà marzo dopo due settimane di chiusura significa che hai scambiato il cash flow per il cassetto il cash flow è un'altra roba il cassetto appartiene a un'epoca in cui non possiamo più permetterci di gestire aziende complesse difficili estremamente variabili e soggette al mercato come le attività di ristorazione con modalità che sono del secolo scorso non se ne esce altro se no conformazione pausa è un grosso ricambio generazionale e mi fa molto piacere quello che ho ascoltato oggi perché credo che tre anni fa sarebbe stato un po' difficile e inimmaginabile sentire parlare di piattaforme che certificavano la sostenibilità ambientale e oggi questa è una delle pochissime eredità positive che questa esperienza ci lascia alla formazione però dei titolari di imprese di ristorazione bisogna affiancare una piattaforma user friendly la vostra lo è user friendly dal lato imprenditoriale poi vedremo se lo sarà anche dal lato utente sì quella che viene definita in gergo tecnico è la UX per cui la facilità lato utente di poterlo utilizzare è estremamente importante io sono contentissimo perché pochi giorni fa ho parlato con un amico che è un professore del Politecnico di Milano di questo progetto e mi ha detto è un progetto estremamente interessante facciamoci una tesi di laurea infatti oggi sarà Andreani che farà una tesi di laurea su questo progetto entriamo in partner subito col Politecnico di Milano e con la cattedra che si occupa proprio di UX per far sì che questo diciamo percorso sia un percorso estremamente validato per essere validato chiaramente deve essere testato deve essere testato verso i ristoratori ma deve essere testato anche lato utente perché l'informativa chiaramente deve essere un qualcosa di estremamente facile per il ristoratore da poterlo utilizzare ma dall'altro lato deve essere un valore che tu comunichi ben percepito dal cliente per fare questo passaggio ulteriore che se vogliamo un passaggio un po' più meno tecnico un po' più di ragionamento abbiamo fatto un ulteriore partnership con l'Università Cattolica di Milano noi sediamo nel master in filosofia per le decisioni economiche quindi la multidisciplinarità sostanzialmente l'abbiamo portata all'interno e con loro affronteremo anche appunto questo tema io ho un'ultima curiosità da utente che non so neanche se è perfettamente centrata però la domanda è lo stesso io sono utente consumatore vado al ristorante e amo viaggiare spero prima o poi di riporterlo ricominciare a fare in libertà vado all'estero vado a Bangkok voglio andare in un ristorante italiano mi spaventa sempre molto l'idea di andarci perché non so che cosa vado incontro le vostre diciamo così se trovo un ristorante che utilizza i vostri tool e quindi racconta è in grado di certificare la sua filiera vado più sul sicuro mi trovo ad avere a che fare con un ristorante realmente italiano realmente sostenibile sì nel senso che poi la certificazione della filiera noi abbiamo visto nel nostro comitato scientifico banalmente ragionandoci pesa sui fattori ESG più dell'80% e certificazione di filiera è cultura perché perché dico è cultura perché parlando anche degli accorgimenti che utilizza Luigi vanno contestuati c'è una storia incredibile dietro abbiamo una storia pazzesca e diciamo che far sì che all'est per rispondere proprio alla tua domanda nello specifico far sì che in un ristorante italiano all'estero ci sia comunque un accorgimento relativamente alla filiera produttiva ma e poi al di là del discorso dell'impatto ambientale del fattore ambientale ma tutta la parte sociale cioè a me piacerebbe anche sapere che questa piattaforma diventasse anche un catalizzatore di contenuti culturali importanti perché è chiaro che se sei un ristorante italiano a Bangkok mi sembra avessi detto giusto a Bangkok operi non operi in Italia ma operi a Bangkok per cui sarebbe anche interessante capire certificare come tu il rispetto alle condizioni di lavoro le condizioni di lavoro come ti inserisci nel territorio che cosa fai per il territorio quali sono magari delle partnership che prendi con dei fornitori locali perché non è detto che tutto tutto te lo possa far arrivare dall'Italia per cui sì io sarei molto come dire più rassicurato bene questo rassicura anche me chiudiamo col padrone di casa quale ruolo pensa di poter avere la Fipe in questo processo che non sarà breve perché come ha detto lei abbiamo fatto un grande salto in pochi mesi però il processo di digitalizzazione della ristorazione non sarà breve in che modo possiamo cercare di favorirlo come Fipe ConfCommercio noi abbiamo 120 mila associati in giro per l'Italia abbiamo circa più di un ristorante su tre più di un bar su tre che è associato alla rete di Fipe ConfCommercio banalmente continuando a parlare alla testa so che non è una roba politicamente facile non ti fa prendere tanti like su Facebook però sinceramente a noi dei like su Facebook non ce ne frega molto ci interessa molto di più tenere la sostenibilità di questo settore e quindi lavorando con le istituzioni centrali per mettere faccio solo un esempio nel PNRR la parola ristorazione nella prima stesura non era mai contemplata mai e ne sai qualcosa cosa ha fatto la Fipe ha fatto tante di quelle audizioni parlamentari era contemplata il turismo ferroviario ancora me lo ricordo ma la ristorazione non era mai contemplata ora la Fipe non ha fatto post su Facebook la Fipe ha fatto quello che deve fare una federazione seria è andata in Parlamento ha parlato con chi di dovere ha rotto le scatole a tutti quelli che ha stalkerizzato l'arco costituzionale e oggi la ristorazione è citata più volte e fra l'altro l'ha fatto un partito politico che normalmente non è molto vicino non rappresenta molto questo settore non dirò non dirò qual è e questo è quello che noi intendiamo fare anche nei processi di digitalizzazione e nei processi di sostenibilità cioè cercare di inserire il codice Ateco 56 che è il codice Ateco nostro all'interno dei beneficiari di tutte queste misure che saranno messe in campo per spiegare ai decisori politici che queste sono imprese non sono soggetti che danno da mangiare perché sono imprese generano valore aggiunto e danno occupazione ecco io credo che fare seriamente rappresentanza significa farlo così non urlando non andandosi tol show a spararla la più grossa noi a tol show cerchiamo di non andare almeno che non ci siano delle situazioni serie e si possa affrontare seriamente un tema e cercando di portare la ristorazione e l'intrattenimento perché FIPE è anche intrattenimento al centro delle politiche economiche di questo paese perché questo è uno se non il settore chiave per lo sviluppo di questo paese nei prossimi anni grazie a tutti staremo a vedere come andrà direi che è stato un dibattito molto interessante esattamente come interessante è questa applicazione saluto Luigi Giurgola docente di tecniche di cottura e chef di cuochi da Sartorie grazie direttore Calugi grazie in Timerino CEO di Gurmix e creatore di Sustainability arrivederci a tutti e buona continuazione di Host 2021 avventura grazie